buongiorno ragazzi eccomi qua eccomi qua prima di farvi il super regalo di una super previsione che ritengo ottima sono qui a presentarvi anche il metodo la spia 12 di milano mi raccomando seguite il video perché poi ci sarà la previsione gratis per tutti ok questa qua la spia 12 di milano è un metodo a cui piacerà tantissimo ok perché piacerà tantissimo perché è un metodo che mette in gioco il 90 quando esce la spia 12 di milano mettiamo in gioco il 90 e vediamo anche su quale ruota andiamo a mettere in gioco il 90 eccoli qua gli esiti ottenuti con questo fantastico metodo ok è uscito quasi sempre il 90 dico quasi sempre perché sappiamo benissimo che i metodi infallibili non esistono e diffidate che da chi vi dice il contrario chi vi dice che i suoi metodi sono infallibili è una persona da evitare quindi eccolo qua guardate il 90 è uscito qua il 90 non è uscito ma è uscito un ambo in terzina poi è sempre uscito nei negli ultimi 11 casi esaminati guardate cosa ha combinato questo metodo ok bene ragazzi fra poco vi darò una previsione gratis ma non di questo metodo perché poi qualcuno si aspetta di ricevere la previsione di questo metodo no vi darò una previsione gratis da un altro mio metodo che mette in gioco tre ambi secchi su due ruote vi darò la previsione che anche quella credo che andrà a segno credo ma non ho la certezza ok come credo che anche questo metodo con 90 andrà a segno ma non ho la certezza la certezza all'otto vi ripeto non esiste quindi per gli amanti del 90 contattatemi sul mio whatsapp vi darò l'informativa su come ricevere questo metodo ha fatto veramente una strage negli ultimi casi terminate noi speriamo di vedere un bellissimo terno oppure una bellissima chissà quaterna in lunghetta perché adesso vi faccio vedere in lunghetta cosa ha combinato questo metodo andiamo a vedere eccoli qua gli esiti in lunghetta come vedete una quaterna con sette numeri qua logicamente gli ambi non fanno testo con sette numeri perché non conviene nemmeno giocare gli ambi però uno che vuole giocare prima poco punta dal terno in poi fa terno e quaterna e cinquina e chissà che non esce una cinquina come è successo in passato qua vedete terno e quaterna in settina qua due terni in settina qua ancora due terni in settina qui ancora una quaterna in settina qui ha fatto tre terni in settina e qui guardate un bellissimo cinquina al sesto colpo non sia mai che esce una cinquina con sette numeri andatevi a vedere le tabelle quanto paga una cinquina con sette numeri e credo che puntare anche un solo euro oppure anche un 50 centesimi sulla cinquina conviene sempre non si sa mai ok su 11 casi logicamente uscita una volta alla cinquina e noi speriamo che esce ancora bene ragazzi io con questo ho finito con il metodo che è interessato alla al metodo mi contatta in privata mentre per voi adesso ecco la previsione gratuita per tutti voi un attimo solo che la scrivo subito ed ecco la previsione gratuita per voi genova torino ambata 70 gli ambi secchi sono 70 52 70 27 70 78 va portato avanti fin l'ultimo coppo si giochi il 21 marzo 2024 io consiglio di giocarla anche in lunghetta cioè fate direttamente una quartina cioè giocate 70 52 27 78 per ambo terno e quaterna ok non si sa mai che esce una bellissima quaterna o sul genoa o sul torino io con questo finito ragazzi e guarda tutti una buona serata e buone vincite sempre con rosario gallo e con previsione vincenti punto it